Partete! Al comando si porta Golden Park con ai fianchi Tomorrow People, segue Madalina davanti a Angel Beam con in coda Geita. Cavalli ora lungo la curva di fondo, buona l'andatura imposta da Tomorrow People che ora è in vantaggio davanti a Golden Park. Risale in terza posizione a ridosso Madalina, più indietro a qualche lunghezza Angel Beam e Geita. Poco prima dell'ingresso in retta d'arrivo, a largo dei primi si porta Madalina e dall'ingresso in retta d'arrivo sono Tomorrow People all'ho steccato, Golden Park al suo esterno e Madalina ancora più a largo. I tre in linea davanti a Geita e Angel Beam. Siamo a 500 dal palo, Golden Park e Madalina sono passati su Tomorrow People, alle loro spalle avanza Geita, più a largo Angel Beam. Siamo a 300 dal palo con Golden Park in vantaggio, attaccato da Geita lungo la corda, cerca di salire anche Tomorrow People. Nel tratto finale in vantaggio Golden Park attaccato a fondo da Geita. Nel tratto finale Golden Park si mantiene saldamente in vantaggio e conclude. Vincito è davanti a Geita, poi Tomorrow People al quarto posto Angel Beam. Rivediamo le immagini, Antonio Fressu e Golden Park, numero due alla seconda corsa di Agnano in evidenza. Rivediamo il primo piano proprio del numero due e di Antonio Fressu, vincitore alla seconda di Agnano. Al secondo posto il numero uno di Geita sul quattro di Tomorrow People. Quindi 2-1-4 l'arrivo ufficioso alla seconda di Napoli. Grazie. 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 Grazie.